Un saluto ai gentili telespettatori di TR News. Oggi questo saluto arriva dalla piazza Libertà a Campi Salentina. Oggi è una giornata importante da ricordare nelle terre del Salento perché proprio 550 anni fa, il 15 novembre del 1463, finisce la storica Contea di Lecce e passa a essere il suolo demaniale del Regno di Napoli. E adesso vi illustriamo il nostro viaggio di oggi. Oggi, 15 novembre, ricorre il 550esimo anniversario della fine della Contea di Lecce. Oggi da Ruffano, in provincia di Lecce, nel Capodileuca, per riscoprire un mestiere davvero antico, l'uquarnimentaro, il bastaglio, ossia il sellaio. Il territorio brindisino nasconde diversi tesori di splendida bellezza. Per esempio, Scegli-me-Sapica, dove oggi scopriremo, fra culti pagani e cristiani, il tesoro delle terre del Salento. Da Copertino, Gallipoli, fino a Lecce, per parlare di Isabella Castriota. Quest'oggi da Massafra, andremo alla scoperta della civiltà rupestre. E di fine saremo a Leverano, dove prepareremo delle gustosissime orecchiette con le rape e delle altrettanto gustose pittime. E allora, accompagnateci questa sera per vivere insieme le emozioni delle terre del Salento.